oh mio dio la testa enorme e anche clank la testa enorme che bello ok ora va meglio salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di regge the clank l'altezza non conta ok ok ascoltate questi due skyboard sono perfettamente uguali gareggeremo un'altra volta per stabilire chi è il migliore è un polarizzatore quello agganciato al modulo di accelerazione a materia oscura beh anche se fosse non l'avevo mai notato prima d'ora senti un po nannerottolo voglio la mia rivincita mi darò il polarizzatore se riuscite a battermi ok beh accettiamo la sfida allora io pensavo vi faccio vedere come ho fatto nel terzo episodio la prima gara in fretta e furia e le altre tre le farò io in a parte così a meno che farò un mini montaggio vediamo vedo un po come fare via 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 ho vinto vento e no questa stupida ferraglia non ha mai funzionato a dovere fa sì che i magneti modifichino la loro polarità per accelerare o frenare non importa grazie buon uomo non le capisce un cazzo lascia stare basta troppi ricordi di suo giamano sta male tanto allora qua ho fatto tutto ho fatto tutto qua me ne manca uno tanto abbiamo il gadget che siamo a posto allora perché sono venuto qui in particolare perché c'è una zona segreta no davvero ok rifacciamo no perché non fa sta ma per oh andate o pette guarda guarda beh un po' che lo fanno dai oh sono fatta mi sa che ci siamo e praticamente in questo piccolo angolo perduto c'è un bolt di titanio solo quello perché non è che non è che non è che non è che non è ah e se no mi sbaglio ho fatto tutto sto giro ok ci vediamo marinari ok ciao